Con il programma di digitalizzazione della rete, Italgas sta raccogliendo moltissimi dati dai sensori che stiamo installando sulla nostra rete di distribuzione gas. Questi dati vengono poi analizzati dal centro integrato di supervisione, che con strumenti di advanced analytics e di machine learning identifica gli allarmi e le necessità di intervento immediato, così come le opportunità di efficientamento predittivo che ci permettono di migliorare la gestione della rete stessa e la sua sicurezza. In quest'ottica gli strumenti di advanced analytics sono fondamentali perché ci permettono di poter analizzare la miriade di dati che arrivano dalla sensoristica sulla rete e poterne estrarre informazioni fondamentali per capire dove intervenire sulla rete stessa e poter sviluppare delle azioni preventive di efficientamento.